Ciao a tutti! Oggi prepareremo i cornetti sfogliati. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 ore circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, olio di semi, uova, lievito di birra fresco, sale, zucchero, latte e burro. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero e il lievito. Ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina. Facciamo impastare per 2 minuti in modalità spiga. Aggiungere le uova. E facciamo impastare per 2 minuti in modalità spiga. Aggiungere l'olio, il sale ed azionare il bimbi per 3 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto. Dividerli in 8 panetti uguali. Lasciamo lievitare per 2 ore coperti con un canovaccio. Trascorso il tempo, adesso dovremo stendere i panetti. Su un piano di lavoro infarinato, stendere con il mattarello in una sfoglia sottile. Spennellare la superficie con il burro. Spolverizzare con lo zucchero semolato. Mettere momentaneamente da parte questo panetto e stendere l'altro. Posizioniamola su quella su cui abbiamo spalmato il burro. Spennelliamo nuovamente con il burro fuso. Spolverizzare con lo zucchero. Continuiamo così per tutto il resto dei panetti, tranne nell'ultimo disco, dove non dobbiamo mettere né zucchero né burro. Dopo aver messo l'ultima sfoglia, stendere con il mattarello, fino a formare una sfoglia di circa mezzo centimetro. Tagliamo la sfoglia in spicchi. Dopo aver tagliato tutti gli spicchi, formiamo i cornetti. Dalla parte più larga arrotoliamolo. E posizioniamoli su una teglia rivestita con carta da forno. Dopo aver formato i cornetti, farli evitare in forno spento per almeno 6-8 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso i cornetti che sono ben lievitati, adesso li spennelleremo con uovo e latte. Spolverizzare con zucchero semolato. Cuocere in forno pre-riscaldato statico a 180 gradi per 15-20 minuti circa. I cornetti sono cotti, lasciamoli intiepidire prima di servire. Cornetti sfogliati. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!